Signori, buon dì! Io sono Smezi, questo è CryptoWatt e come vedete ci troviamo all'interno di un nuovo format. Esso è stato ideato per creare un percorso all'interno di un gioco di carte collezionabili che utilizza gli NFT e che è costruito su rete Polygon. Per chi non sapesse di che gioco sto parlando, il gioco in questione si chiama Skyweaver e come ho detto è costruito su rete Polygon. Quindi i costi di transazione e di scambio delle carte saranno molto bassi. Voglio fare una piccola introduzione a quelli che sono i giochi di carte collezionabili e a quello che cambia con la presenza di NFT. I giochi di carte collezionabili online sono per esempio Hearthstone e Magic Arena. Questi sono giochi di carte collezionabili come vediamo nella realtà ma in cui le carte invece che comprarle le possiamo guadagnare seguendo i tutorial del gioco e completando delle sfide o delle missioni. Il problema di questi giochi online è che una volta che io ho finito di giocarci con le carte non ci faccio niente quindi queste carte sono un po' fini a se stesse. Mentre nei giochi di carte collezionabili con NFT questo non avviene perché io compro le carte come in un qualsiasi gioco di carte collezionabili nella realtà e da chi le compro? Le compro dalle persone che giocano a questo gioco. Una volta che avrò smesso di giocare al gioco perché magari mi ha annoiato posso rivenderle nel mercato. Oltretutto questi NFT non sono solo delle carte ma possono anche diventare dei token che possono essere detenuti all'interno dei nostri wallet e infatti possiamo venderle o all'interno del marketplace del gioco stesso oppure all'interno di altri marketplace sparsi nella blockchain come per esempio OpenSea su Ethereum. Questo cambia completamente il modo di ragionare all'interno di questi giochi e soprattutto crea secondo me un mercato molto più ampio perché io per anni ho giocato ad Airstone ho speso anche diversi soldi per giocarci e adesso che non ci gioco più perché il gioco è andato a calare io non so che farmene di queste carte. Quindi questa è una buona alternativa. Infatti io penso che il settore degli NFT con il settore del gaming sia nome culo e camicia e penso che il settore dei giochi di carte collezionabili e gli NFT siano un livello ancora superiore. Non perdiamo altro tempo sigla e dentro Skyweaver. Perfetto siamo all'interno del gioco come vedete questo è il mio nick Crypto-Watt ovviamente non poteva mancare siamo a livello 0 anche se io in realtà ho rifatto l'account perché prima di portarvi questo format volevo vedere se il gioco fosse a tutti gli effetti valido e mi sembra fatto molto bene ha delle meccaniche molto interessanti. La cosa che possiamo fare adesso all'inizio sono i tutorial però prima voglio fare un giro della interfaccia. In basso a sinistra vediamo il nostro portafoglio questo è l'address del nostro portafoglio all'interno c'è 0 perché non ho depositato niente ma qui noi potremo mettere i soldi che ci servono per poter spenderli all'interno del market e infatti partiamo proprio dal market. Come vedete i disegni delle carte sono fatti veramente bene ripeto che il gioco è fatto bene devo ammettere che ha delle meccaniche molto interessanti e in questo market noi possiamo vedere un po' di prezzi. Questa carta ha il rune va bene il mio inglese ha un pessimo accento costa 4,3 die quest'altra ne costa 51 questa 69 insomma è un marketplace a tutti gli effetti e noi possiamo sia vendere che comprare carte. Nel nostro library non c'è niente ci dice di giocare il tutorial per guadagnare delle carte e poi c'è la categoria rank che ci fa vedere la classifica mondiale del gioco e come vedete ci sono già due italiani anzi forse il solito che gioca con due account diversi e nella home principale a questo va il mio account che ovviamente adesso non ha né vittorie né sconfitte c'è scritto Your progress and assets are temporarily and will be reset when going into soft launch quindi ricordo a tutti che siamo in un open beta per partecipare a questo gioco è indispensabile farsi mandare la beta key che potete prendere o attraverso il sito ufficiale dovrete mettere la vostra mail e aspettare un po' di tempo oppure vi lascio un link in descrizione che vi richiede un po' più di informazioni quindi il vostro account discord di ricevere newsletter e in più di mettere la vostra mail che però vi rilascia questa beta key per poter giocare immediatamente il gioco inizialmente è gratis e poi piano piano che andiamo avanti penso diventerà a pagamento quindi nella frase che ho letto prima lui ci dice che i nostri beni i nostri asset e i nostri progressi verranno resettati quando partirà il soft launch e che i primi 500 player vinceranno una limited edition di una gold card quindi vuol dire che se noi arriviamo nei rank entro il rank 500 cosa che faremo sicuramente ci dropperanno questa gold card bene io direi di smettere adesso di parlare e cominciare un po' a giocare e facciamo play tutorial e i disegni di questo gioco sono fatti veramente bene tutto funziona come vedete in maniera perfetta e adesso facciamo il primo combattimento con l'intelligenza artificiale abbasso un po' esatto abbasso un po' il volume bellissimo ok dobbiamo ucciderlo per vincere bene ok questo è il mio deck questo è il mio personaggio questo si vede ok quindi io prendo il mio campione come vedete viene fuori la freccia e posso scegliere chi attaccare esattamente come airstone bam danno in piccia ok portalo a 0 per vincere la partita questo qua a sinistra è il mio mana e questo indica che io posso giocare le carte che costano 1 ok trasporta le carte abbassa ancora un po' trasporto le carte dalla mano al gioco per per farle entrare in campo e come in tutti i giochi il primo turno la creatura che ha buttato dorme e non può attaccare adesso mi dice di finire il mio turno io quasi quasi la muto almeno traduco direttamente quello che dice adesso è il turno del tuo opponente questo è il suo mana in alto a sinistra e le sue carte e readcoms sta arrivando a sinistra vediamo anche quello che è successo turno dopo turno va bene e a destra se clicchiamo qui vediamo il nostro deck quindi gioco veramente fatto bene devo dire la verità non vedo differenza tra i vari giochi di grandi case produttrici e questo onestamente va bene l'avversario mi ha fatto danno in faccia con il suo personaggio adesso il mio turno io ho due mana e gli faccio attacco col 2-3 il 2-2 per ucciderlo come vedete viene fuori il teschio quando uccido il nemico lui muore e gli faccio un danno in faccia dopodiché butto un 3-3 a costo 2 e passo il mio turno ok lui attacca il mio orso va bene e mi dice che posso vedere la lista di carte che ci sono nel mio cimitero nel cimitero del mio oppositore va bene butto questo 4-3 e poi direi che vado in faccia molto semplice vi risparmi un po' grosse spiegazioni in questo caso perchè chiunque abbia mai giocato a un gioco di carte collezionabili sappia o meno come funziona sono tutti molto simili e devi cercare di quindi devo arrivare fino a livello 15 prendendo esperienza da i bot abbiamo appena sbloccato un eroe ok come vedete nel simbolino in basso dell'eroe c'era un pugno perchè questo è un eroe forza e poi abbiamo sbloccato 3 nuove carte halicon ok che ha guardia armor lifesteal che per il momento non so cosa vogliono dire amber wolf pago 1 è un 3-2 e windsword quindi give target target unit più 2 più 1 and attack shroud ok shroud non so cosa vuol dire e gli darà più 2 all'attacco e 1 alla difesa già questa è una cosa che non ho spiegato perchè ho dato per scontato che tutti i giocassero giochi di carte collezionabili ma in questo gioco abbiamo un attacco che vediamo sulla sinistra nelle nostre carte e la vita che vediamo sulla destra la vita è se un personaggio perde la vita ok questa rimane persa fino alla fine non è che a ogni fine turno si cura come in alcuni giochi ma rimane persa nella fase iniziale che c'è stata adesso lui ti fa pescare 4 carte più 1 che peschi subito 2 abbiamo un mana quindi prima attacchiamo e poi buttiamo il nostro clawbear disegni ragazzi veramente fatti da dio è un turno in basso a destra è il turno del nostro nemico che ci butta violet dice nota che questo che questo mostro ha uno scudo lui è un bodyguard a tutti gli effetti quindi siccome ha l'abilità guard disunit tiro can't be attacked finchè c'è guard ok io non posso attaccare il campione nemico ma posso attaccare solo lui quindi prenderò il mio clawbear ammazzo il 2-2 e adesso posso attaccare il campione nemico cosa che prima non potevo fare ho 2 mana ho l'unica l'unico personaggio che posso buttare con 2 e è shelly lo vedi questo cerchio attorno alla vita questa è l'armatura tutto il danno causato a questa unità si riduce di 1 si riduce di 1 o a 1 ok no si riduce di 1 quindi per uccidermelo una persona dovrebbe farmi 4 danni infatti lui è attaccato con il campione gli ha fatto 0 danni perchè un danno lo para la mia armatura ok c'è un personaggio nuovo che si chiama wicket twister che ha stealth e dice questa unità non può essere attaccata finchè il suo eroe has been damaged this turn quindi se io con il mio eroe attacco il suo adesso si è rivelato lui dallo stealth e posso attaccarlo finalmente quindi utilizzerò il mio orso che è ormai mvp per ucciderlo come vedete qua c'è il cimitero del nemico e qua c'è il mio posso pagare 3 e butto stick eye che ha l'abilità witter quando un danno danneggia un'unità that unit lose that much power quindi se lui fa 3 danni a un'unità l'unità che ha preso questi 3 danni attacco dell'unità che ha preso 3 danni scende di 3 attacco col mio 1-3 e passo un gioco veramente ben fatto e piano piano che si va avanti diventa sempre più complicato ok lui butta l'olifante 3-5 con guardia quindi uno veramente grosso ed è il mio turno se io attacco vedete se io attacco con come si chiama lui stick eye l'olifante lui perderà sia 3 di vita che 3 di attacco il che è positivo perché diventa 1-0-2 ok e posso attaccarlo con le mie unità senza prendere danno a questo punto butto il nomade che come abilità ha life steal when this damage when this damage the enemy hero give your hero that much health quindi se con lui io faccio danni al eroe oppositore il mio eroe si curerà di quanto danno fatto life steal abbastanza semplice cioè rubatore di vita ok questa è un'abilità con banner banner è un'abilità passiva quindi non è attiva come le altre che abbiamo visto e dice your hero gains più 1 power while this unit is in play quindi se io gioco sidekick che è questo personaggio l'attacco del mio eroe passa da 1 a 2 a questo punto io faccio riesco a fare massimo 3 2 5 6 danni non ammazzo il nemico e quindi faccio con l'eroe 2 danni altre 2 e muore con lui attacco l'eroe nemico e mi curo e con lui gli faccio l'ultimo danno la sorte del nostro avversario ormai è scritta lui morirà e quindi butto questa creatura tanto per tanto per fare ok geod che è un 4-4 con armor e uccido il nemico cerco di tagliare un po' nei tutorial proprio perché son tutorial è la parte base e quindi una volta che possiamo distruggere il nostro oppositore lo distruggiamo e andiamo avanti ci da altra esperienza noi saliamo 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 e in più ci sblocca un nuovo eroe come vedete il simbolo in basso non è più quello dell'attacco ma era dell'agilità sblocchiamo 3 nuove carte engine blade che ha sunrise gain più no power life steal and whiter fly guy after an enemy unit is summoned kill this unit and attack axe to that unit ah ok fantastico lui è fortissimo quindi lui muore e gli da axe che non so cosa sia hot dog bellissimo hot dog fantastico il cane con rocket summon draw and attack your lowest cost fire spell to this unit if your hand has a fire card ready this unit quindi pesca e attacca la tua la tua la tua carta fire col minor costo di mana e lancia questa spell su questa unità se la tua mano ha una fire card ready this unit quindi se ho una fire card in mano questa unità diventa ready ready vuol dire che può attaccare quando una una carta attacca diventa tappata diciamo o dormiente quando invece è ready può attaccare quindi io potrei attaccare utilizzare la sua abilità e riattaccare terzo tutorial spell and ability allora mi ricordo che da qua in poi il gioco comincia ad essere un po' più complicato perché entrano dei nuovi fattori in campo allora welcome back skyweaver ready for another match of course nothing something different on your hero ok noti qualcosa di differente il tuo hero c'è un'abilità you can click and drag it off your cost ok quindi abbiamo un'abilità che ci costa zero che si chiama mana flask del nostro personaggio che ci dà due mana se io la prendo e la droppo in campo ok il mio mana diventa tre e posso giocare due creature invece che il solito cloud bear giocherò lui che è il nostro mvp più grimstone ok grimstone che cosa dice dice death quindi quando muore crea uno zomboid zomboid è la carta che vediamo a fianco che ha witter e in più quando muore lo zomboid è un 1-2 e quando muore lo zomboid fa un danno al campione nemico adesso attacco il campione nemico per l'appunto e passo la mia fase il mio turno wow this unit had a summon effect quindi when this unit come into play quindi summon si attiva quando l'unità entra in gioco gains power equal to your hero power quindi l'attacco di questa creatura è uguale a quello del suo eroe ok io ho appena droppato una spell va bene che si chiama incinerate costa 2 e fa 4 danni al target enemy unit quindi io posso fare 4 danni a il pegaso e attaccare con tutte le mie creature il campione nemico passo ecco lui ha usato una spell vedete che mi ha fatto 3 danni a grimstone grimstone muore e summona il zomboid che avevamo detto ok ora ho messo un 3-2 semplice e il 2-2 con guardia che avevamo visto prima gladiator lui ha innanzitutto armor quindi prende un danno in meno ogni volta che viene attaccato e poi glory glory si attiva when this character attack damage the enemy hero quindi glory si attiva quando questo personaggio gladiator attacca e fa danno al campione nemico io lo gioco attivare glory mi dice che questo campione ottiene guardia e banner banner ci fa aumentare di uno l'attacco del nostro eroe e guardia invece lo fa diventare un tank quindi qualcuno che deve essere ucciso prima di poter attaccare il mio eroe per l'appunto questo personaggio è a lui infatti io come ho detto prima posso attaccare tutti tranne l'eroe stesso perché c'è guardia quindi col mio 2-3 uccido il suo 2-2 e poi faccio prima di tutto attacco con lo zomboid il 3-2 così da fargli perdere 1 attacco e 1 salute e poi attacco col mio eroe zomboid quando muore fa un danno al campione nemico passo turno suo allora lui mi ha ucciso il clawbear se è stato bravissimo come sempre e ha giocato breaker crab che è un 2-4 con guardia e quando muore dà un mana in più al campione nemico e questo è forte mi piace ok matchstick vediamo questo questo mostro ok lui ha un 2-1 con wither il solito il solito effetto e in più come vedete ha questo questa abilità qui che posso giocare al costo di 1 due 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 ma due 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 danni il suo attacco si diminuisce di 2 e poi posso attaccare col gladiatore perché attaccando il gladiatore lui guadagna guardia e in più ah no no è vero no ho detto ho detto una stupidaggine questo succede solo se attacco l'eroe e allora faccio un danno in faccia all'eroe senza senza fare altro ero curioso di vedere se l'abilità di matchstick si riutilizzava o meno ok lui ha giocato olimpia che è un light unit light unit si attivano quando gioco un'altra light unit vedete questo personaggio ha un'abilità che costa 3 che dice dai a tutte le unità alleate più 1 health and banner e quindi ogni alleato a quel punto darà più 1 attacco all'eroe è un 3 3 con guardia e life steal io posso giocare king's lay e dice che quando questo personaggio è giocato dalla tua mano kill target 3 cost or less enemy unit quindi lui uccide una creatura che costa 3 o meno gioco lui e vedete mi fa selezionare l'unità che voglio uccidere e la distruggo direttamente veramente forte ok ripetevo quello che avevo già detto ora attacco con lui come vedete gli viene il banner e in più il guard infatti aumentano tutti i simbolini sotto di lui questo gioco mi sembra veramente fatto bene veramente fatto bene devo ometterlo e il mio eroe ottiene più 2 più un attacco the star on this unit is the only player play a card demit this effect require inspire light ok ecco questo personaggio è un personaggio luce e dice che ogni qualvolta giochi una carta luce si attiva questo effetto quindi give your hero più 3 health benissimo da cura il tuo eroe per 3 di vita in più ha la possibilità di utilizzare il potere trinity link che ha utilizzato ok ah ok no no capita adesso lui entra in campo e pagando 1 e utilizzando la sua spell ok setta innanzitutto porta la salute di una mia unità a 3 o di una sua unità a 3 e infatti lui è di che era un 1-1 è diventato un 1-3 e siccome la spell che ha utilizzato è una spell light quindi luce si è attivata la sua passiva e ha curato il suo eroe di 3 vita io a questo punto gioco nocturna che ha sunrise ok questa unità ha sunrise si attiva a ogni inizio del mio turno sunrise e il sunrise di questa unità dice attack the enemy hero in più a life steal quindi questa unità attacca direttamente l'eroe nemico e in più cura il mio di 2 bene arrivato a questo punto io direi che attacco col 4-3 anzi proverei a attaccare col 2-3 lui ok volevo vedere se l'effetto si sommava e se l'attacco del mio eroe diventava diventava 3 ma non è così allora col 4-3 uccido uccido lui perché aveva 3 salute più 1 armature quindi necessitavo di 4 attacco e col mio eroe attacco l'eroe nemico passo vediamo la mia mano intanto è veramente c'è roba grossissima a sunset ecco vedete questa è la differenza tra sunrise e sunset sunrise vedete ok mi fermo un secondo e faccio recap allora il mio personaggio è sunrise quindi quando sorge il sole che vedete è intorno a noi nello sfondo del nostro gioco quando è sunrise è l'inizio turno quando è sunset è il sole che viene giù quindi è il tramonto lui si attiva all'inizio e lui si attiva alla fine e infatti questa carta dopo che è stata messa a terra ha guadagnato guardia è un 4-9 è veramente grosso e infatti ti da uppercut che è praticamente un una spell che mi permette di far tornare nella mano avversaria una creatura e in più mi da banner quindi l'attacco del mio eroe dovrebbe crescere di 1 faccio tornare in mano la creatura e adesso tantissimi danni in faccia per te 4 2 3 e 2 lui è a 2 a questo punto rigiocherà il solito 4-9 orribile e io volevo provare prima di fare qualsiasi altra cosa e di buttare la roba grossa volevo provare questo discorso qua che vi avevo detto ah no ok si è arreso basta abbiamo vinto ok abbiamo sbloccato un campione che è per metà forza e per metà agilità ancora ci deve spiegare che cosa vuol dire questo questa caratteristica ok sbloccata una carta la bestia 6-6 guardia e banner costa 6 e in più c'ha un potere che non so cosa sia allora light ranger dice invece summon quindi quando viene giocata in campo pesca e attack scritto in questo modo non vuol dire attack ma vuol dire attach scusate ho tradotto male che vuol dire allega a questa carta la spell con light con costo minore del tuo mazzo give your hero health equal to it cost quindi cura il tuo eroe per di vita per quanto costa questa carta gli ultimi speed boots quindi scarpe veloci ready target alle unit quindi fai diventare ready un alleato allegaci quest to it quest che ancora non so cosa sia quest dovrebbe essere missione ma non so che tipo di missione gli da bellissimi anche questi questi caricamenti e nel quarto tutorial che vediamo oggi c'è enchants learn about enchants and effect they have on units ok il nostro avversario come vedete era earth intellect ma forse c'era la mia testona davanti non l'avete visto ma noi siamo strength e loro earth intellect ok ti dice la fase finale del nostro gioco è arrivata questa è la vera selezione delle carte quindi lui ci da sette carte e dobbiamo sceglierne quattro quelle che adesso vedete in rilievo sono quelle che ti consiglia lui ovviamente noi non lo seguiamo perché non ci fidiamo di lui e seleziono claubert che mi sembra uno dei personaggi più forti del gioco grimstone gladiator ok e io mi terrei un incenerate che secondo me fa sempre comodo va a one shotare solitamente un'unità nemica ok è il mio turno e a questo giro io non userei la non userei il il mana o forse si anzi quasi quasi lo uso e gioco il gladiator dopo di che faccio un danno a lui e basta ok this is an enchantment they look like spells but behave differently as they have a constant effect while attached chariot has shield enchant it will prevent the first combat damage it takes when it attacks or it attacks by unit or hero ok and then the shield will be dust ok quindi la differenza che c'è tra una spell e un enchantment enchant che è scritto comunque in fondo e quindi si vede è che questo è attivato fin da subito e non c'è da pagare niente e in questo caso l'enchant di questa creatura gli dà una sorta di immunità al primo danno che prende dopo di che il lo shield si dusterà quindi andrà a remove from the game direttamente quindi non andrà nel graveyard nel cimitero ma verrà esiliato diciamo e quindi non si traverà più da punte parti e si consumerà quindi io adesso volendo attacco con lui ok gli levo questo shield mi prendo questi due danni e poi attacco col mio 2-3 mi tocca distruggere per forza il 2-1 non è che ho fatto una grande una grande giocata però butto in campo zonbod come si chiama? grimstone no zonbod ok discharges as the frozen enchant lui ha l'enchant frozen questo personaggio prende due danni in più lui può pagare 4 in questo caso per rimuovere questo enchant e quindi non prendere più due danni in più stessa cosa questo elderwood dice che quando muore draw a one cost unit ok quando muore ti fa pescare una creatura a costo 1 è 1-0-1 e ha root come enchantment che dice lui non può attaccare pagando 3 rimuoverebbe questo enchantment come pagando 4 rimuoverebbe questo ok guardiamo un attimo la mia mano io ho il grizz di solito 4 danni che potrei fare in aggiunta esatto in aggiunta ai 2 che gli fa frostbite per distruggere quest'unità mer mask che mi fa pescare 2 carte water e empty your mana empty your mana sarebbe svuota il tuo mana ma è per questo turno oppure me lo riduce di 1 lo scopriremo grover che ha un 3-5 che però ha roots come enchantment quindi non potrebbe attaccare e fa il rune che posso giocare su un'unità nemica da banner a quell'unità però a ogni inizio turno quindi con sunrise quell'unità prende 2 danni ok ho 3 mana io direi che la cosa migliore da fare è fare 6 danni a lui e lo distruggiamo buttare il claw fare un danno a lui perfetto 2 danni al 3-2 e 2 danni con la mia guardia a il campione nemico dando così più 1 attacco al mio eroe diventando guard quindi un tank ok lui ha giocato la solita spell sul mio personaggio si è preso un danno in faccia perché quando lui muore gli fa un danno e poi ha giocato mecurai un 1-1 con armor e banner che gli dà più 1 attacco a lui quello che farei io in questo momento è buttare un tankone oppure pescare 2 carte d'acqua però empty your mana non so bene cosa fa quella carta quindi la giocherò per seconda vediamo cosa intende per empty your mana ok no non ha ridotto il mio mana di 1 semplicemente ha speso tutto quindi ho fatto bene a giocarla di seconda ok mi ha spiegato che se il mio deck non ha carte water ok le genererà in automatico dal vario roster pieno di carte acqua però il mio eroe perderà un punto vita per ogni carta che non ha trovato esatto c'è scritto qua if possible if not lose one health and conjure one instead allora a questo punto io direi che col mio 2-3 attacco l'1-1 e poi danno in faccia come sempre a l'eroe nemico this character have barrier ok barrier if the enchanted character will take non combat damage thus disenchantment to prevent it ok quindi barrier è una sorta di shield che funziona solo con le magie il problema di questo mostro nemico è che ha stealth e quindi finché non faccio danno all'eroe nemico non posso farci niente allora io direi che gioco tat e do life steal e shield a lui gioco glacia che ha un 2-5 con guardia e se pago 4 gli levo frostbite a questo punto farei 2 danni a lui però prima devo attaccare l'eroe nemico quindi con lui attacco l'eroe nemico e mi curo di 2 a questo punto posso ammazzare questo vero esatto faccio 2 e 2 e con il mio 2-2 attacco ah mi sono curato perché anche lui ha life steal esatto ma gli effetti ora ci penso si vedono anche qua dall'attacco ok aspetta mi ha messo ex lui entra in campo e questo personaggio entra in campo c'ha come abilità come spell dark rune che mi da ex ex to target enemy unit quindi ha una mia unità e ex cosa fa ah ok sunset quindi quando il sole tramonta a fine turno fa 6 danni all'enchanted character e dust disenchant quindi e riduce in polvere questo enchantment quindi io posso pagare 6 volendo per non far morire il mio 2-2 cosa che farò perché sono curioso di vedere esatto dust e infatti lui è andato è stato rimosso a questo punto io direi che attacco con tutti lui assolutamente a parte con il 3-1 che probabilmente attacco il 3-3 perché tanto il mio ha lo shield e quindi non prende danni e diciamo che lui è destinato a morire ok attack the enemy mirror quindi lui attacca sempre il campione mio ok ho trovato un'abilità che dice fai 5 danni to target enemy unit if lethal dust it and do excess damage to the enemy hero e in più da life steal quindi se io pago 5 e gli faccio 5 danni a lui il mio campione si cura ah ok si cura di 1 perché fa un danno che è in eccesso all'eroe quindi faccio 5 danni ne passa 1 all'eroe quel danno che fa all'eroe mi fa curare bellissimo questo gioco è molto interessante devo dire la verità c'è tante meccaniche interessanti e quindi penso che se continuerà il gioco stesso a sviluppare e a lavorare come stanno facendo le carte che compriamo o che droppiamo piano piano prenderanno secondo me sempre più valore or challenge other ok quindi mi ha detto o continuiamo a allenarci con i bot oppure andiamo a fronteggiare i nemici noi ovviamente nel prossimo episodio andiamo subito a combattere con i nemici non ci penso due volte a combattere i bot perché dobbiamo testare un po' le nostre abilità quello è il nostro eroe che abbiamo sbloccato e ci ha dato altre 6 carte base Tiamat costa 9 6-9 glory do 3 damage to enemies the enemy lose 1 max mana mostro lui speederella ok le abilità che hanno queste carte non le so perché non te le fa a vedere glory quindi quando attacca il campione nemico die dust to enemy hero non so cosa sia dust band together quindi banner costa 7 give alle unit più uno più uno for each element among alle unit wow questo è interessante gli elementi li vediamo qua in basso quindi se io in campo avessi una dark unit una fire unit e una water unit avrei 3 elementi diversi e questo band together mi darebbe più 3 più 3 a tutte le creature più banner quindi sarebbe una cosa veramente grossa ok claw bear eldest quindi pago 8 è un 6-7 glory give your hero armor quindi quando faccio danno al nemico ci da armatura e fireside pago 2 fai 2 danni all'alleato nemico pesca 2 carte fuoco bello bello un po' di trade per fare danno alle nostre unità che non è una cosa positiva però ci fa pescare 2 carte ok ora va di pratica va bene ah ok ok è vero mi ero scordato come vedete qua ci sono le varie modalità c'è il tutorial che abbiamo fatto la pratica con i bot che ci consiglia di fare fino al livello 15 come aveva detto per droppare carte e anche eroi quindi forse l'episodio 1 sarà contro bot ancora però volendo possiamo fare una partita ranked nella tipologia discovery quindi play adequate randomized card possiamo giocare con un mazzo che ha carte completamente a caso mentre con il constructed ci serve un deck che noi non abbiamo e infatti se andiamo alla nostra collezione e facciamo costruisce un deck ci fa selezionare l'eroe che io prenderò per conto questo che è strength poi c'è agility che è lui mezzo agilità mezzo mezzo forza oppure c'è solo agilità solo intelletto wisdom e questo ah e questo fa invece intelletto e forza sono tantissimi personaggi come vedete con caratteristiche diverse non ho ancora capito in realtà cosa servono queste caratteristiche però se arriviamo a livello 15 come vediamo qua sopra la mia testa ci sblocca ce li sbloccherà tutti quindi tornando indietro ah già volevo provare scusate a costruire un deck faccio costruisci deck e 20 random cards ah queste sono tutte le carte che ho che sono tutte quelle che ho droppato fantastico quindi al momento se usassi tutte le carte che ho arriverei a 10 carte su 20 ma interessante quindi questo vuol dire che volendo magari finito tutto il tutorial ci potremo costruire un mazzo e giocare contro queste persone altrimenti ci toccherà giocare con la modalità discovery che ho provato e che non è male è molto divertente comunque torniamo qua alla home di pratica direi che per questo episodio è tutto benissimo signori in questo episodio zero abbiamo percorso tutto il tutorial del gioco la prossima volta invece ci concentreremo sui match contro altri giocatori e vediamo di spaccare un po' di culi e niente ragazzi l'episodio di oggi finisce qui ricordatevi di mettere like al video se vi è piaciuto di iscrivervi al canale di seguirmi su twitter e anche su instagram così che mi possiate scrivere direttamente se avete delle domande ricordatevi anche che in descrizione potete trovare il link per poter partecipare all'open beta di questo gioco ragazzi io ho detto tutto anche per questa volta l'episodio di oggi finisce qui buona serata ciao 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 Grazie a tutti